Sedete gli occhi, non parate, sedete gli occhi, fate vita di stare davanti alla trasmissione, tutti, 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 tutti gli occhi quasi scegliati, non sentiamo, eh? Vado, si è fatta professore, amate per professori, non potremmo sbagliare, amore, musica, passione, questa sono io, grazie, 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 grazie. E noi, noi ovvero, tutti i ragazzi, se l'omptero, se l'omptero si fa, no? No, 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 no.